Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Sarà Alessio Sestu l'ospite di questa sera Grigi nel cuore, il nostro talk show dedicato all'Alessandria Calcio e dintorni. Alle ore 21.15 non perdetevi dunque l'appuntamento col Mondo dei Grigi su Telesity 1, canale 111 del Digitale Terrestre. Dopo il pareggio interno contro il Siena per 1-1 dei domenica scorsa, che ha allungato a 7 partite la striscia positiva degli Orsi, 6 vittorie e appunto un pareggio, il primo dell'era Michele Marcolini in panchina. Domenica prossima, dopo le prime due in classifica, Livorno e Siena appunto, il trittico toscano si chiude con la trasferta di domenica 11 febbraio, ore 14.30, contro l'Arezzo. Formazione al tredicesimo posto in classifica e attualmente fuori dalla zona playoff, ma che ha soltanto due punti in meno dei Grigi, 29, che invece sono dentro la zona spareggi promozione. González e compagni sono all'ottavo posto con 31 lunghezze. Una gara decisiva per scavare un piccolo solco almeno con una delle inseguitrici, magari approfittando degli scontri diretti tra Monza e Arzachena, Siena e Cararese, e soprattutto della giornata di riposo della Gianna Erminio, quinta e solo tre punti più in alto. Sarà solo l'inizio però di una settimana ricca di passione e partite. In arrivo infatti anche i quarti di finale, ad eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C, con la gara dell'Alessandria in programma mercoledì prossimo, 14 febbraio, nella serata di San Valentino, al Moccagatta contro il Renate, alle ore 19.30. Un programma di tre partite in sette giorni, che porterà poi la squadra di Mister Marcolini alla sfida interna contro il Monza di domenica, 18 febbraio. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Il meteo, in collaborazione con Aria, acqua, vento, freddo. Lascia fuori le intemperie e i malintenzionati. Proteggi la tua casa con gli infissi di gollo seramenti. Gollo seramenti Produzione e vendita a finestre in PVC, legno, alluminio, persiane in alluminio e blindate. E per tutto il 2018 ti garantiamo un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13 Aria, acqua, vento, freddo.it 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 Aria, acqua, vento, freddo.it